Signor, fortalecevo fiello con la benedizione, ma nunca, nessuno non separerà fuori la volontà, e passiamo per la nostra gratitudine. A me non ho molto memoria, mi ho dato 5 all'una ora che è stato fatto, ma mi ho sempre d'accordo, a me non ho un pezzo o un anno specifico, mi ho sempre d'accordo, mi ho dato una memoria di dia che non ho avvisato, ma mi ho sempre d'accordo che mi ho dato a perdere la mano di a me. C'è una ceremonia speciale per votare, e una persona che ha perduto la ribella? È una cosa molto bella, una cosa molto emozionale, mi ho provato, è una cosa che mi ha dato a perdere il nostro coraggio, ma sempre bisogna pensare, cosa si può fare, se non lo so. è una cosa che si tratta di una storia del caso di Piscadona con Abimbeck e pensi di come lo portano in questo caso ma si tratta di un destino e si tratta di un destino ci sono anche una cerimonia speciale quando si tratta di una presenza qui? ci sono una cerimonia e ci sono una famiglia di mio tato Michael e Goy cioè la mia mamma, mia abuela, mia mamma, mia tante, mio primo, mia prima e anche conoscere un amico di Goy e mia tata cosa vuoi fare durante la cerimonia? abbiamo cominciato la cerimonia con il pastor Nicolás poi abbiamo fatto un relato con i sali e i correnti del giorno di Goy e Goy a perdere dopo i 16 anni abbiamo una storia di mia tata che mi ha contato, una storia di Goy con i suoi uomini che mi ha contato, che è un'unica memoria di mia tata che ci sono una storia di gente che mi ha contato e lo che è una storia che mi ha contato quando c'è un Goy e altre persone che hanno un momento di perdere la mamma? mia tata è una storia di 19 anni, 2 di juni dopo 9 giorni e la perda arriva alla mamma quindi mi ha contato in 19 anni e ora la perda Goy e Goy ha contato in 26 anni e ora quella perda quindi mi ha contato a Hopi Young